L'amministrazione comunale, al fine di favorire il mantenimento ed il reinserimento delle persone ultra sessantenni residenti nel comune di Agropoli, nella vita della comunità, intende rinnovare anche per l'anno 2016 le attività di integrazione sociale degli anziani mediante i seguenti servizi. Sorveglianza presso le scuole, sorveglianza e piccola manutenzione del parco pubblico di Via Taverne, sorveglianza presso municipio, centro sociale polivalente e castello. L'assegnazione della postazione di sorveglianza sarà fatta ad ufficio ed in presenza di rinuncia di tale assegnazione si procederà allo scorrimento della graduatoria con 26 volontari idonei che saranno impiegati nelle attività già citate prima, con una rotazione per 4 ore al giorno per 6 giorni alla settimana, esclusi giorni festivi. La domanda, in carta semplice, va presentata presso l'ufficio protocollo del comune entro il giorno 11 dicembre 2015. Il modello della domanda è disponibile presso l'ufficio dei servizi sociali o presso il centro sociale polivalente. Nello stesso nucleo familiare, inoltre, la domanda può essere presentata da un solo componente. La graduatoria dei volontari sarà formata tenendo conto della situazione reddituale risultante dalla dichiarazione ISE relativa all'anno 2014. In caso di parità di punteggio sarà privilegiato il più anziano di età. Alla domanda devono essere allegati seguenti documenti. Certificato del proprio medico corrente, attestando che richiedente si trovi in uno stato psicofisico tale da essere ancora utile a se stesso e alla società. Certificato di ISE e dichiarazione sostitutiva unica redditi anno 2014 e copia di un documento di identità.